Buongiorno a tutti dalla vostra mail a Benvenuti e bentornati nel mio canale Come leggerete dal titolo, finalmente dopo tanto tempo mi dedico a un video lettura E oggi vi mostro quello che ho letto ad ottobre, cioè quelli che avevo definito i miei libri da paura Allora, parto subito dal primo, e cioè Frank Stanley Mariscelli Questa è un'edizione della Barbera Editore che avevo acquistato appunto col 50% di sconto e pagato 5 euro Per un totale di 248 pagine Allora, bene o male tutti conosciamo già la storia di Victor Frankenstein Questo scienziato pazzo, genio che sia, in base a uno come lo vuole considerare Che dedica tutta la sua vita e i suoi studi a un unico scopo E cioè togliere un freno alla morte Questa sua decisione parte dall'infanzia Dal momento che perde la madre, un pilastro importante della famiglia Una famiglia amorevole, benestante Appunto dove troviamo anche una cugina adottiva Però messa a lui già come sposo E due fratellini minori Che stranamente non gli hanno mai rotto le scatole Quindi insomma la famiglia del mulino bianco Questi suoi studi lo porteranno in Germania Finché avrà questa illuminazione E una notte creerà questa creatura Composta da parti umane raccolte tra cimitero e vittorio Insomma una cosa schifosa Comporrà questa creatura E riuscirà nel suo intento Cioè a ridargli la vita Molto vigliaccamente si pentirà della sua azione Di quello che ha fatto Vedendo la mostruosità del suo atto E quindi fuggirà dalla creatura Che lui ha risvegliato dalla morte Naturalmente come ogni azione Porta una conseguenza E questa conseguenza sarà quasi la pazzia Di Viktor Frankestein Una vita di umiliazione e pentimenti Da parte della creatura La quale inizialmente Troveremo quasi come una creatura incompleta Dato che non avrà mai un vero e proprio nome Appunto verrà sempre chiamata Monstro, creatura, essere, demonio Insomma un vero e proprio nome Poveri non ce ne avrà Nonostante le sue buone intenzioni A causa del suo aspetto orrendo Verrà sempre comunque discriminato Picchiato Insomma non farà vita facile E questa sua vita non facile Lo porterà a commettere delle azioni orribili E tentare una vendetta verso il suo creatore Allora ripeto Bene o male la storia la conosciamo Però nella mia ignoranza in realtà non la conoscevo Sono stata veramente felice di leggere questo classico Che ho trovato veramente bellissimo Cioè ti immergi veramente nella storia di Frankenstein Dove la racconta lui in prima persona Questo capitano che lo raccoglie Va bene non mi dilungo oltre con la trama Se no va bene che starei qui a raccontarvi tutto il libro Però va bene Mi fermo E entri proprio nella storia L'unica cosa che forse non ho apprezzato Della scrittura di Mary Shelley Il fatto che abbia comunque dilungato Tanto le descrizioni dei viaggi di Victor Frankenstein Mentre delle sue scoperte scientifiche O comunque delle sue azioni scientifiche Ne sappiamo poco o niente Anche questa illuminazione che lui ha Che riesce a ridare la vita a una cosa morta Si non si capisce più di tanto Quindi io avrei preferito più cose scientifiche E meno descrizione appunto dei suoi viaggi E' bellissimo il modo comunque di scrivere di Mary Shelley Anche un'altra cosa che Non è che mi abbia sconvolto Però è il personaggio di Igor Che io ho sempre Insomma nei vari film Si è sempre vista questa figura di questo collaboratore Di questo aiutante di Frankenstein Gobuto Un po' bruttino Insomma che lo aiuta E che in realtà non è mai esistito Non è mai nato Dalla penna di Mary Shelley Insomma Sarà che nel film di Mel Brooks Frankenstein Junior Troviamo Igor Questa figura simpaticissima Secondo me che è sempre adorato E mi ero quasi affezionata A questo personaggio Quindi Scoprire che non è mai esistito Per me è stato Un piccolo sciocchettino Insomma non facciamo una tragedia Ma va bene Comunque un classico Che consiglio assolutamente Anzi L'avrei dovuto leggere molto tempo prima Il secondo libro che vi mostro È la scatola a forma di cuore di Joe Hill Questo è il dito della Sperling E caffera economica Pagato 5,90 euro Per un totale di 366 pagine Allora in questa storia Troviamo Jude Jude è un cantante metallaro Che all'età di 40 anni e passa Decide di ritirarsi momentaneamente Dai palchi Dai vari palchi insomma Quindi si ritira nella sua casa di campagna Insieme ai suoi cani E insieme alla sua ragazza Nuova ragazza giovanissima Tra l'altro Di nome Mary Beth Ma che lui continuerà A chiamare Georgia E ha un segretario Un po' ossessivo Un po' Però molto bravo nel suo lavoro Cosa molto originale Da parte di Jude È una sua collezione Lui raccoglie da anni Oggetti che riguardano l'occulto E appunto questa sua collezione Lo porterà a nuovo acquisto Quando il suo segretario Danny Lo informa che in un'asta È stato appena messo in vendita Un fantasma È il fantasma di un signore anziano Che è molto legato A un abito Un abito che durante il funerale La figlia non gli ha fatto indossare Quindi l'anima un po' pentita del vecchio È rimasto collegato a quest'abito E lei ha pensato bene Di metterlo in vendita Naturalmente Jude Non si farà lasciare a quest'occasione Di avere un nuovo oggetto Ad aggiungere a questa sua bizzarra collezione Quindi comprerà Il fantasma Gli verrà recapitata a casa Una scatola a forma di cuore Con al suo interno Questo abito nero E dal momento che Quest'abito Entrerà in casa sua Logicamente Questa presenza Di questo fantasma Di questo anziano Che di sicuro Non è amorevole Non ti dà le caramelline Quando passi lì vicino Ma anzi Tenterà in tutti i modi Di rovinare la vita Jude Che gli passa vicino E più volte A cercare di portarlo Del suicido Insomma Gli renderà veramente La vita impossibile Ma questo suo collocamento In realtà È collegato già Da anni A Jude A un po' Quello che sono stati I suoi anni passati A certe sue scelte A certe Insomma È legato a Jude In poche parole Così E questa È la trama Allora Ultimamente Se ne parla Parecchio Almeno io Guardando varie recensioni Vedevo che ultimamente Si parlava di questo libro Jude Naturalmente Come anche Ho già detto In precedenza Lo adoro Più di suo padre Mi piace Il suo modo Di scrivere Questo Essendo magari Un libro Un po' Precedente Anche La vendetta Del diavolo Magari si vede Un po' La scrittura Un po' Più acerba Però Insomma Sarà che io sono Una persona Abbastanza impressionabile Però Quando è iniziato Soprattutto la prima parte Del libro Veramente Mi faceva venire l'ansia Cioè A parte che I fantasmi ci credo Vabbè Non so se mi volete Prendere in giro I fantasmi ci credo E ne ho anche Abbastanza paura Quindi forse ho scelto Anche il libro Sbagliato Perché ripeto Sono impressionabile Poi la coincidenza Che ho iniziato Questa lettura Nel momento Che mi sono ritrovata A lavoro da sola Dato che la mia titolare E la mia collega E erano andate in ferie Quindi quando arrivava sera Veramente ogni rumore Io saltavo I personaggi Mi sono piaciuti Veramente tanto Jude L'ho trovata Proprio una persona reale Cioè Il suo modo di reagire È reale Non è il solito eroe Non è quello che Si sacrifica Diciamo Per la donna Amata O magari lo fa Ma in una maniera Più reale Più giusta Magari forse Il finale Mi sarei aspettata Qualcosina di più L'ho trovato forse Un finale troppo Rosa Non dico altro Però l'ho trovato troppo Tra l'allero Tra l'allaro Non lo so Mi aspettavo magari Quei colpi di scena O magari Un finale Totalmente Un finale Totalmente diverso Comunque anche questa È una lettura Che veramente consiglio È scorrevole Ti tiene incollato Meno impressionato E tutto il resto Passando al terzo libro E cioè Max Books World War Z Questo è l'edito Della Cooper Pagato 18 euro Per un totale Di 306 pagine 307 pagine E abbandonato A un terzo Della lettura Allora Sia questo Che il libro Che vi mostro Dopo Sono state Un po' per me Delle delusioni Ma perché Io avevo già visto I film in precedenza Quindi Mi immaginavo Di trovare Nella carta La stessa storia Che io Ho veduto E da un lato Forse è stato il mio errore Perché La storia È totalmente diversa Io mi credevo Di rivedere Quella storia Magari più approfondita Con più personaggi Sì magari Forse è un po' più lenta Però magari Con più dettagli E tutto il resto Invece mi sono trovata Due storie Completamente diverse Da quelle che Mi ero immaginata Quindi questo è un errore Mio Diciamo Di Questo volume Il film A me Era piaciuto Qui però Noi troviamo Ripeto Una storia diversa Perché qui troviamo Questo militare Sconosciuto Senza nome O magari Non lo so Lo dice alla fine Però io Avendolo abbandonato Un terzo Non lo saprò Ormai Che viene incaricato Di raccogliere Delle testimonianze La guerra mondiale Degli zombie È già finita da anni È suo compito Di raccogliere Un po' In giro Per il mondo I vari avvenimenti Cioè Da cosa è partito Cosa è stato fatto L'esercito Come è regito E poi Come è finita La storia Tutto il libro È diviso In nove capitoli Dove appunto Troviamo I primi allarmismi Quindi troviamo Questo personaggio Che va in Cina Dove ci sarà Il paziente zero Va in Brasile Va in India Va in Egitto E così via Però l'ho trovata Una scrittura fredda Perché Ne sappiamo già poco Del narratore O almeno inizialmente E allo stesso tempo Quando va a intervistare Le altre persone Dove possiamo comunque Trovare Dei funzionari Dei militari Dei politici Insomma Di tutti i generi Si può trovare Di tutti Dei malati Insomma Troviamo Qualsiasi tipologia Di persona Che lui decide Di intervistare Non se ne sapere Non se ne saprà mai Più di tanto Cioè La persona Che lui intervista Non ti viene descritta Magari brevemente Ti dà qualche particolare Però appunto Non riuscendo A immaginarmi Questa persona Non lo so L'ho trovata Una scrittura Un po' fredda Non sono riuscita Ad attaccarmi A nessuno Come di solito Fai in un libro Va bene Però questo è scritto A modo documentario È scritto Da un lato Molto bene Perché ti dà Veramente l'impressione Che questa cosa Sia successa Che possa succedere Anche come Le reazioni Della gente Dove c'è Comunque Una malattia Che si sta propagando Come le aziende Farmaceutiche Reagiscono Come cerchino Comunque Nonostante La difficoltà Di guadagnarci Buttando fuori I vaccini Robe così Inutili Che hanno soltanto Un effetto Placebo Per la gente Che non Fa assolutamente Nulla In poche parole Quindi Dal modo di scrivere Veramente Ti dà l'impressione Che sia reale Però ripeto L'ho trovata Una lettura fredda Molto noiosa Magari Ti poteva incurosire Un po' di più Quando intervistava Dei civili Perché magari Lì vedevi Delle reazioni Un po' più umane Mentre comunque Quando trovavamo Appunto Come ho spiegato Quando si parlava Delle aziende Farmaceutiche Dove trovavi Dei personaggi Senza scrupoli Che tentavano Comunque Di guadagnarci Nonostante La tragedia Che nel mondo Si stava propagando Oppure I militari I capi di stato Dove dicevano Di uccidere Tutta la gente Basta che Il morbo Insomma Reale Da quel lato Lì reale Però ripeto Non avendo Una storia Continua Avendo comunque Dei continui cambi Sia di zona Che di personaggi Non lo so A un certo punto Mi sono arresa Rallentavo sempre di più La lettura E nonostante Fosse partita bene Quei primi due libri Questa non riuscivo Più ad andare avanti Quindi Ripeto È stata un po' Una delusione E poi Forse è maggiore La delusione Perché ci ho messo Tanto a trovarlo Non lo trovavo Da nessuna parte Sembrava sparito Nelle librerie E dopo tanto Trovato e pagato 18 euro Anche abbandonato Quindi veramente Mi è un pochino Dispiaciuto Altro libro È Il mistero Di Slippiolo Di Irving Questa è in edizione Della New Compton Cos'è Narrativa Di Compton Editori Va bene Per questo Libraccio A 3 euro Di qua Ci sono Altri racconti Di Irving Ma come avevo già detto Avrei letto Soltanto Il mistero Di Slippiolo Anche qui Per me è stata Una delusione Perché il film Dove troviamo Come protagonista Questo Il nostro Caro Johnny Depp Che interpreta La parte Di Icabot Crane Icabob O Icabod Non me lo ricordo Va bene Questo detective Che viene mandato In questo villaggio Di Slippiolo In Dagar Su un cavaliere Senza testa Che mette vittime E così via Qui invece Il nostro caro E fascinante Icabod Si trasforma In un maestro Di questo villaggio Un po' Sfigatello Un po' Bruttino La quale Su unico scopo È riuscire Finalmente Ad avere un posto In società Sposando La figlia Di questo Insomma Ricco Uomo Di nome Van Tassel Quindi Esatto Appunto I Johnny Depp Cosa L'ha tirato fuori Non lo so Io sono rimasta lì Ho detto Va bene Questo personaggio Che te lo descrive Magro Brutto Un po' Magari anche Falso Ma un po' Sognatore Appunto Perché non avendo Soglie Non avendo Neanche una Casa Per sé Ma comunque Aspira A diventare Qualcuno Sposandosi E la cara Ereditiera Non lo so Logicamente Anche lì Ci sarà Un Una leggenda Che girerà Intorno a questo Villaggio Cioè di questo Cavaliere Che continua A girare Ogni notte Per i cemiteri Alla ricerca Della sua testa E questo maestro Arriverà Ad affrontare A vedere Questo Questo fantasma Ma al finale Non lo so Forse avrei Abbandonato Anche questo Racconto Se non fossero State solo 40 pagine Quindi mi fosse Un po' Intestardita Ad arrivare Fino alla fine Però ripeto Di entrambi Gli ultimi due Libri che Mi ho appena Mostrato Ho preferito Letteralmente Il film Bene Allora Le mie letture Sono terminate Sono state Le letture Che appunto Avevo dedicato Alla festività Di Halloween Perciò Ci abbiamo Filato Monstri Fantasmi Leggende E morti Viventi Penso Che fossero State più Che adatta Ad Halloween Se avete letto Come sempre Uno di questi Libri Mi piacerebbe Sapere Il vostro Parere E ci vediamo Al prossimo Video Grazie mille Per l'ascolto Un bacio E la vostra Mela Ciao ciao Ciao